Sarà Colombo di Como a dirigere Roma-Saveritana del prossimo lunedì. La squadra granata da domani riprenderà gli allenamenti con l'obiettivo di conquistare punti anche contro i giallorossi di Murigno, sfatando il tabù che la sta accompagnando da ritorni massima serie. Tra l'altro facendo punti con i giallorossi, la seritana sarebbe riuscita nella piccola ma significativa impresa di fare risultato in questa stagione contro tutte le rivali. Manca all'appello solo la squadra di Murigno, impegnata domani all'Everkusen nel ritorno della semifinale di Europa League. La salvezza aritmetica non c'è ancora e potrebbe arrivare anche senza giocare tra sabato e domenica. La società granata preferisce restare concentrata sull'obiettivo senza lasciarsi andare a proclame o dichiarazioni sul futuro. La programmazione per la prossima stagione è però già cominciata. Le conferme di Paolo Sousa e Morgan De Santis sono già state sancite da strette di mano nel chiuso degli spogliatori della Rechi. Poi però il presidente del Volino, la di Milan, il DS e il tecnico dovranno buttare giù nei dettagli il progetto tecnico sportivo che dipenderà dal budget stanziato, dalle decisioni sul futuro di alcuni calciatori, via su tutti, dalle scelte in relazione ai prossimi obiettivi. L'area scouting è nata a monitorare tantissimi calciatori nel mondo ma è chiaro che la preferenza sia per i giovani di prospettiva come altrettanto certo che nei radar ci siano anche calciatori più pronti e dei costi più alti. Sarà la proprietà di indicare la linea da seguire e in base a ciò si passerà all'azione seguendo questo o quel piano tecnico. La Salonitana ha messo nel minuto ragazzi molto giovani ma non disdegni obiettivi più consolidati per età ed esperienza, per accorciare in maniera più veloce le distanze dai club che occupano stabilmente le posizioni di rincalzo rispetto alle big storiche del campionato. Allora si potrebbe provare a cominciare di arrestare, a costruire una squadra fatta di elementi più esperti e con giovani già in grado di fornire un elevato rendimento. Se si vorrà crescere senza fretta e senza correre il rischio di bruciare le tappe ed anche i capitali, allora sarà quasi fisiologica l'accessione di A al miglior offerente e con essa anche qualche altro prezzo in uscita che possa servire per avere un tesoretto importante da reinvestire in parte. Sousa vuole una rosa ambiziosa. De Santis ha già pronto il piano d'azione da seguire per far sì che le volontà del Presidente e le esigenze del tecnico possano combaciare. La sintonia tra allenatore e direttore sportivo è massima e la voglia di proseguire insieme è assodata. De Volino è contento e soddisfatto dell'operato di entrambi ed ha voglia di crescere ancora. Tra le priorità restano anche le strutture, lo stadio, il centro sportivo ed un piano marketing ancora più efficace e fruttuoso. La serenità non aspetta la salvezza, ma pensa già al futuro. Grazie. Grazie. Grazie.